Hanno trovato subito la via del gol, poi sono stati molto bravi a gestire la gara senza concedere troppo agli avversari. Una vera prova di forza. Non ci resta più molto tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie. 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 Grazie.